Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del primo match del Women's Six Nations 2021, Italia-Inghilterra. La prima domanda per Andrea Di Giandomenico da parte di Christian Marchetti. Quali sono le impressioni e le emozioni in vista dell'esordio contro l'Inghilterra? Allora, le emozioni, anche se sono tanti anni che siamo qui, sono sempre forti, nel senso è un torneo carico di emozioni, anche se ha una nuova formula, una nuova finestra temporale, è sempre emozionante giocare a un sei nazioni. Contro l'Inghilterra, un avversario di cui c'è poco da dire perché ci sarebbe troppo da dire, insomma sappiamo una squadra forte in tutti i reparti, la squadra da battere negli ultimi anni lo ha dimostrato ampiamente, quindi siamo molto concentrati su quello che invece vogliamo dalla nostra prestazione, quindi una precisione maggiore, abbiamo lavorato bene per questo. Una domanda da parte di Matteo Viscardi di On Rugby per Manuela. Come e quanto cambia per te l'interpretazione della gara, soprattutto in difesa, in un ruolo diverso da quello di estremo, nel quale hai sempre detto di trovarti come a casa? Sicuramente sì, l'ho detto più volte, l'estremo è il ruolo dove fondamentalmente sono cresciuta come atleta, però forse pochi sanno che in realtà il mio ruolo preferito è l'ala. Quindi in realtà per me è sicuramente una grandissima emozione poter interpretare questo ruolo, anche perché so che tra le mie compagne la concorrenza è altissima, quindi in realtà sono felice, non vedo l'ora di scendere in campo e divertirmi, che è quello penso sia la cosa alla fine più importante. Alessandro Ceccioni di Arbeno chiede, Francia e Inghilterra hanno un livello molto alto in ambito di rugby femminile, quali sono le cose su cui puntare per far crescere il movimento femminile in Italia? Allora, io credo, è vero, Francia e Inghilterra se parliamo di nazionali come espressione di gioco assolutamente esprimono un gran bel gioco completo nei reparti e quant'altro. A livello di campionato io credo che sia una domanda che mischia due ambiti un po' particolari che vanno affrontati in maniera differente. Ovviamente parliamo di due campionati domestici, quello francese e quello inglese, dove anche atlete, non solo italiane, partecipano a questi campionati e garantisce probabilmente un livello di competizione un po' più alto e quindi uno sviluppo di giocatrici che hanno opportunità di prendere parti a competizioni, forse, io questo lo dico sempre col forse, in maniera competizioni più elevate. Non generalizzerei, in realtà io ovviamente parlo del mio, quindi posso essere di parte e lo sono, il livello di crescita tecnico di questo gruppo di ragazze, sicuramente all'interno della squadra nazionale, ma e lo credo fortemente, a livello del loro club con allenatori molto competenti e da alcuni anni a questa parte è stato evidente, ritengo, e veramente ci si va a misurare su aspetti del gioco in maniera importante e questo, ripeto, credo che sia a merito di tutti i tecnici, ovviamente non parlo dei club che mettono a disposizione strutture e anche staff adeguati, però per quanto riguarda metodologie di allenamento, stile di gioco, una consapevolezza all'interno del rugby, seguendo un modello di gioco, che assolutamente non riteniamo essere l'unico e il migliore in assoluto, però una forte identità si riscontra nel gioco di queste ragazze e nella loro crescita in rapporto alle competenze legate al modello di gioco, questo senza dubbio. Poi ovviamente posso rispondere che allargare una base, rendere i campionati più armonici, più competitivi, investire sulla formazione, ma non parliamo di femminile, io credo che parliamo di movimento in genere, quindi questo è quello che penso. Una domanda sempre da parte di Alessandro Ciccioni, cosa ti aspetti da questo 6 nazioni e che sensazione è tornare alla competizione dopo tanti mesi? È un bel mix di emozioni, abbiamo aspettato così tanto tempo prima che arrivasse finalmente questo momento, quindi l'aspettativa è, come dicevo prima, quella di divertirci, abbiamo la necessità e l'urgenza di ritrovare nell'immediato il nostro gioco, i nostri meccanismi, la confidenza, insomma per poter fornire da subito una prestazione molto alta, quindi mi aspetto sicuramente un torneo in salita e faremo di tutto, ci concentreremo affinché, insomma, questo avvenga. Già a compagnasco, il sole 24 ore, scelta importante informazione con alcuni spostamenti tra i tre quarti, come Furlan Pala e lo studi Minuzzi Estremo. Hai in mente un piano di gioco specifico? Più che un piano di gioco specifico ho la voglia di mettere alla prova le ragazze in varie posizioni, mantenendo però un'efficacia prestativa e quindi anche una costanza nella prestazione, un continuo percorso di crescita che non è qualcosa di relativo e di specifico strategicamente per la partita, ma all'obiettivo della sfida è muoversi sul doppio binario, quello di allargare le possibilità e quindi dare maggiori opportunità a più ragazze possibile, cercando di mantenere la prestazione di qualità. Questa è la nostra sfida, credo che sia stimolante anche per le ragazze per poter misurarsi in altre posizioni o addirittura non trovarsi a partire titolari, entrare dalla panchina, dare comunque un apporto. È un modo secondo me anche per rafforzare la consapevolezza e l'efficacia di un gruppo. Questo è quello che ci porta a questo tipo di scelte per questa partita, ma non sono strettamente strategiche legate all'Inghilterra. Alessandro Fusco, il tempo. Il cambio di ruolo da estremo all'ala, come modificherà l'approccio alla partita? In realtà il mio approccio sarà sempre lo stesso, nel senso che Andrea può anche scegliere di mettermi pilone, penso che comunque resterebbe lo stesso. Magari sarei solo un po' più preoccupata, però dai, scherzi a parte, quello che mi preme è riuscire da subito, nonostante lo spostamento, di mettermi a servizio della squadra, che quella è la cosa sicuramente più importante. In realtà non sento la pressione per questo cambio di ruolo, anzi, è una, come ha detto anche Andrea, una sfida personale e quindi sì, sicuramente quello che mi preoccuperà di più sarà di divertirmi quando gioco estremo. Allora, Ivan Malfacco, ragazzetta dello sport per Andrea Di Giandomenico, qual è la vera sfida per l'Italia in questo torneo? Allora, c'è una sfida legata al periodo e quindi al lungo stop, che credo che sia quella di mantenere nelle tre partite consecutive, quindi nelle tre settimane, una buona tenuta fisica, in senso anche di brillantezza e abbiamo visto in passato da sempre. Noi all'interno del torneo, con il passare del tempo, abbiamo sempre aumentato confidenza e quindi ci siamo sempre trovati più a nostro agio, più il torneo andava avanti. Adesso questa forma compatta con le tre partite consecutive, in un contesto che viene da uno stop forzato, comunque da una non costanza nell'esercizio, nella pratica dello sport e la competizione, credo questa sia una sfida. La seconda è quella di cui abbiamo parlato anche prima, che ha parlato anche Emanuela, appunto cercare di trovare proprio all'interno del nostro gruppo delle sfide di ruolo, di posizione, di organico, in modo da riuscire ad offrire sempre una prestazione all'altezza. Io credo che questo sia molto stimolante per noi. Vincenzo Di Ruzza, che è stato il tifoso, che obiettivo si è posta insieme alle sue compagne in questo segnazione? Con le ragazze non ci diamo degli obiettivi nel senso proprio vero del termine, o meglio, quello che ci preme di più è appunto da subito ritrovare confidenza e i meccanismi tra di noi, quindi quella è sicuramente la nostra sfida più grande, il fatto di ritrovarci c'è sicuramente tanto entusiasmo per queste tre settimane che passeremo insieme, quindi sicuramente il primo obiettivo è riuscire da subito contro l'Inghilterra, che sarà una sfida sicuramente molto dura, a imporre da subito, imporre, cercare comunque di fare il nostro gioco, per quanto le possibilità potrebbero essere poche, dobbiamo cercare quelle poche che avremo di sfruttarle al massimo, quindi se vuoi in questo senso questo sarà il nostro obiettivo, essere più precise in modo da trarre beneficio dalle possibilità che avremo.